Con Levario, campo di allenamento della Maceratese, prima della partenza per Savona, partita importantissima anche perché il Savona che ormai sembra destinato alla retrocessione soprattutto per i punti di penalizzazione, nelle ultime due partite almeno ha dato segni di vivacità con una vittoria e un pareggio. Quindi non sarà un avversario facile? No, anche perché è intanto la squadra in salute che ha fatto quattro punti nelle ultime due partite, si è rinforzata con due acquisti importanti come Pasqualini e Lulli e tra l'altro credo abbia ripreso morale dalle notizie che arrivano dall'inchiesta di Irti Soccer perché è chiaro che se poi saranno confermate le penalizzazioni proposte è normale che la lotta per evitare la retrocessione assumerà tutto un altro aspetto. Perciò in questo momento il Savona sicuramente ha ripreso morale, non è la squadra allo sbando di un paio di mesi fa, è un avversario difficile e complicato da affrontare. Ha recuperato morale durante questa settimana di allenamenti intensi, anche vivacero, visti i poc'anzi biancolossi giocare, scherzare, essere in forma. Anche la Maceratese dopo la sconfitta di Sant'Arcangelo e il pareggio interno di sabato scorso con l'Upa Roma? Sì, sicuramente, è normale che quando non si fanno i risultati c'è sempre un pizzico di rabbia e di delusione, però questa squadra dal primo giorno di ritiro a Genga ha sempre lavorato con una grande intensità, una grande voglia e perciò questa settimana, come tutte le altre settimane, ci si è preparati, ripeto, un grande impegno a questa difficile trasferta perché c'è volontà di invertire la rotta e di magari ricominciare un percorso che nell'ultima partita è un pochino rallentato, però, ripeto, in tutti noi c'è voglia di magari tornare a fare risultati importanti. Avete fatto un sopralluogo sul campo del Savona, va bene, si può giocare. Il campo del Savona è bellissimo. Bellissimo, quindi non ci saranno giusti alibi. No, no, non siamo abituati a un campo bellissimo. Ah, ecco, all'incontrario. L'alibi è questo, anche perché, onestamente, non sta a me rispondere a cose che ho sentito, però, insomma, mi è sembrato qualche dichiarazione un po' ingenerosa nei confronti di una squadra che luglio, agosto e settembre non si è mai allenata all'Elvia Recina. Qualche articolo? Sì, voglio dire. Io faccio una constatazione, ripeto, non è polemica, non sta a me, parlo a nome della squadra. Luglio, agosto e settembre non ci siamo mai allenati all'Elvia Recina, approfittando anche dell'ospitalità di qualche località vicina come Casette Verdini e Urbisaglia e il ritiro. Ottobre, novembre e dicembre la nostra presenza, rispetto a quella concordata, è stata inferiore al 40%. Da 20 giorni non ci mettiamo piede, perciò sentirsi chiamare in causa per le cattive condizioni del campo, insomma, mi è sembrato un po' fuori luogo. Poi, ripeto, io sono sempre una persona costruttiva, mi auguro che si arrivi a una soluzione perché si possa risolvere il problema. Però questi sono dati numerici quelli che ho detto, non sono né considerazioni né polemiche. Passiamo all'episodio tecnico che così è più affrontabile. Certo. Allora, l'infermeria, De Fioretti mi pare ancora out, però disponibile è d'Anna e poi due nuovi, anzi, tre nuovi, Togni Colombi e Sabato. Sì, sì, i nuovi sono a disposizione come lo sono stati nella scorsa partita, dove il Colombi ha giocato titolare, Togni è entrato a gara in corso. L'infermeria si è, finalmente, dopo tanti mesi, svuotata perché Danna è recuperato. Fioretti sta recuperando, non è prontissimo per questa gara, ma lo sarà per quella successiva, che poi per noi è un giocatore importantissimo. A breve arriveranno anche altri giocatori perché oggi abbiamo concluso un accordo con la Lupa-Roma per uno scambio tra Belkaid e Cerrai. Mi togli la domanda, lo scuppo che volevo proporre io, va bene, era quello che volevo chiederti. Sì, abbiamo fatto questo scambio, reciproca soddisfazione. Cioè, Belkaid e Carrai a Macerati. Esatto, Belkaid va alla Lupa-Roma e in cambio arriva Lorenzo Cerrai. Cerrai, cioè il figlio del presidente, no? Esatto, centrocampista della Lupa-Roma, un'operazione che ha avuto soddisfazione da tutte e due le parti. Poi la Siccichi è tornata al Napoli che lo girerà a Rimini e stiamo addirittura ad arrivo lo scambio che già da qualche settimana era stato impostato tra Sar e Potenza, un attaccante esterno del Lumezzane. Per questa operazione, anche questa di reciproca soddisfazione, sta andando in porto. A Sarre permetterà di avere più spazio, di giocare con più continuità nella nuova squadra e Potenza ci darà una mano, perché è un giocatore che è esterno d'attacco, di centrocampo, seconda punta, un giocatore duttile che può fare al caso nostro. Un buon mercato, adesso ancora c'è qualche operazione da fare, deve arrivare un secondo portiere, credo arriverà anche questo stretto giro. Al posto di Di Vincenzo che ha debuttato benissimo domenica scorsa con la Miternina battendo il Matelica. Sì, ma Di Vincenzo è un ottimo portiere, anche lui ha fatto questa scelta per giocare con più continuità, io lo conosco da cinque anni, so che oltre ad essere un ottimo ragazzo è un portiere importante. Domenica ha fatto delle parate importanti, dando un dispiacere al Matelica, magari dando soddisfazione alla nostra ex squadra, la San Benio d'Ettese. Però ripeto, al di là di questo, Di Vincenzo è un ragazzo, un portiere molto bravo e sono contento per lui. Come sta facendo bene Ganci a Castelfidardo, ha già segnato in due o tre partite disputate. E ripeto, ma tutti questi giocatori sono validi, solo che nel nostro contesto hanno trovato meno spazio, anche perché la squadra è andata bene, è chiaro che una squadra che funziona è anche difficile da cambiare. Ma sono certo che tutti questi che stanno andando via faranno benissimo nelle nuove società dove andranno, anzi con la Sicci che ho scherzato, perché Rimini lo affrontiamo tra un paio di partite, di non esagerare nel fare bene. Ma non a Sant'Arcangelo, quindi c'è possibilità di vincere. Esatto, perciò speriamo che stavolta il tabù si sfati.